piuttosto semplice e funziona in questo modo. Ci divideremo in quattro gruppi, quattro gruppi di lavoro composti da tutti voi che sarete distribuiti ognuno in un gruppo, scelti in modo casuale. In questi gruppi saranno presenti Andrea Stocchiero della Foxiv, che non ho menzionato prima perché non è fra i relatori, ma è uno dei principali artefici di questo progetto e quindi anche dell'iniziativa di formazione, Mattia e Rocco, i due ricercatori del CESPI e il sottoscritto. In questi incontri, in questi piccoli gruppi, dovremo cercare di sviluppare alcuni concetti e poi vi dirò meglio come lo faremo. Ma prima di aprire le porte ai gruppi di lavoro e dare le indicazioni su come procedere, abbiamo pensato di presentarvi. Io ho già presentato i miei colleghi, che però poi prenderanno la parola e si presenteranno da soli, ma soprattutto ci interessa che tutti voi che vi frequenterete a lungo per i numerosi incontri che sono previsti in questo, i diversi moduli che sono previsti in questo incontro, che possiate conoscervi l'un altro, gli amici del CESPI, anzi le amiche di Doquita che sono presenti oggi, i relatori appunto. E quindi io chiedo, vi propongo che ciascuno prenda la parola per pochi secondi per dire esclusivamente il proprio nome e cognome, il paese da cui proviene, il comune in cui vive e lavora, due comuni se vive in un comune e si sposta per lavorare in un altro e da quanto tempo, da quanti anni la persona si trova in Italia. Nient'altro perché poi tutti i vostri, le vostre speranze, le vostre punti di vista, le vostre esperienze, eccetera, avrete modo di svilupparle nel corso dell'incontro. Infatti dopo i gruppi di lavoro ci sarà la presentazione della ricerca di Mattia e Rocco, poi ci sarà l'intervento di Gianni Bottalico e poi ci sarà uno spazio congruo perché voi possiate reagire a ciò che avete ascoltato, dire la vostra opinione. Quindi spazio per dire come la pensate, ne avrete qui e negli prossimi incontri. Per il momento nome, cognome, comune, dove vi trovate, vivete, paese di provenienza e da quanti anni siete in Italia. Prego, a voi la parola. Non so Andrea se vogliamo seguire un ordine alfabetico, se usiamo una lista o ciascuno si... Io direi dalla lista della chat che ho davanti io. Benissimo, allora tu chiami. Allora inizio io, sono Sergio Schrott, italiano, nazionalità italiana, latina, presidente di un'associazione. Grazie. Io fino ad ora ho parlato ai nostri amici che vengono dagli altri paesi, ovviamente abbiamo, e qui me ne scuso, abbiamo anche appunto esponenti di associazioni, il primo è Sergio e anche tutti gli altri e le altre sono benvenuti e fanno parte di questo collettivo. Prego. Non so se si può presentare Serena Cattacin. Ok, salve a tutti, mi sentite? Sì. Ok, salve a tutti, sono Serena Cattacin, vivo e lavoro a Latina e sono operatrice sociale per Caritas Latina appunto. Grazie. Grazie a voi. E Gorprit? Gorpret. C'è? Si sente l'audio. E andiamo magari avanti e poi torniamo da Gorprit. Faraz Zakhir. Mi sentite? Ah, sì. Buonasera. Allora, io vengo dal Kashmir, Pakistan, vivo a Formia, lavoro come operatore sociale con progetto SAI di Formia. Grazie. Da quanto tempo hai in Italia? Sono più o meno nove anni. Bene, grazie. Grazie a voi. Poi abbiamo Victory Ogogo. Sì, sì. Io sono Victory Ogogo. Vengo dalla Nigeria, abitato a Prevenno. Ho fatto otto anni in Italia. Ora non sto lavorando. Ok, grazie. E poi abbiamo Baginca. Sì, io mi chiamo Lamin Baginca. Vengo dal Senegal. Sono qui da tre anni e mezzo. Abito adesso a Cori. Prima stavo a Latina, però adesso sto a Cori. Ho lavorato l'anno scorso da un'associazione in servizio civile, però adesso non sto lavorando. Ok, grazie. Abbiamo poi Felix. Io vengo da Pontinia, sono un cittadino italiano, sono cresciuto qui, però ho origini indiane. Ok, grazie. E Barbara Corvarola? Ciao, Latina, originaria di Genova, ma da 25 anni vivo a Latina. 58 anni, ma attualmente sto frequentando un corso da ossa e lavoravo nel settore dell'immigrazione. Grazie. E Francesco Ciccone. Buon pomeriggio a tutti intanto. Io vivo e lavoro a Fondi, sono consigliere comunale, ho ricevuto il graditissimo invito da l'associazione Articolo 24, con cui spesso collaboriamo e che è partner abituale di Dotita e di Progetto Diritti e sono felice di essere qui con voi e di condividere questa esperienza. Grazie. Poi abbiamo Ilarina. Penso, sì, Ilarina. Mi sentite? Sì. Scusate, ma c'è una connessione un po', provo a mettere il video anche dopo, un attimo. Allora io sono della Caritas di Latina, sono la responsabile del centro d'ascorto diocesano. Ivana? Buonasera a tutti, io sono Ivana Tibaldi, sono un'insegnante d'italiano per stranieri e lavoro nel progetto SAI di Forna. Grazie. Janet? Buonasera, sono Janet, sono da Kenya, sono qua da vent'anni, adesso lavoro di servizio in famiglia. Sì. Ok, grazie. Laura Perrotta, Tempi Moderni, è la partner. Ciao a tutti. Sì, Laura Perrotta, sono dell'associazione Tempi Moderni, io sono estranea nel senso che sono a Roma, non sono esattamente nell'agropontino ma un pochino più in là. originaria di Lecce, vivo a Roma da 15 anni. Grazie. Lorenza Fusco. Ciao, sono Lorenza Latina e faccio parte dell'ufficio diocesano Migrantes e come professione sono insegnante. Benvenuta. Martina, non so, solo il nome c'è. Sì, eccomi, non metto il video perché la connessione mi salta in continuazione. Allora, sì, sono nata e cresciuta a Latina, ci ho vissuto fino a qualche mese fa, da gennaio vivo e lavoro a Roma, faccio parte dell'associazione Tempi Moderni, ho lavorato come insegnante di Italia e come operatrice sociale. Grazie. Grazie. E Nirab? Buonasera, mi sentite? Sì. Mi chiamo Nirab SM, ho 22 anni e vengo dal Bangladesh, sono bengalese e abito a Terracino, provincia di Latina. Ok, da quanti anni sei in Italia? In Italia sono più di 15 anni che sono in Italia. Grazie. Poi vedo qui un medio. Buonasera, io sono medio, ho 23 anni, sono in Italia da quasi 4 anni e vivo alla Cina. Ok. Poi lavoro a Terracino in un'azienda agricoltrica. Piacere. Poi abbiamo Tina. Buonasera, sono Tina Di Fazio, io abito a Fondi, sono un'insegnante e appartengo a Fondi Vera, lo stesso movimento politico a cui appartiene Francesco, il consigliere comunale che ha parlato prima. Grazie. Poi c'è Tony Victory. Buonasera. 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 sono Paolo di Arcangelis sono un avvocato e sono il presidente dell'associazione Articolo 24 un saluto a tutti salve poi ho iPhone che immagino sia il cellulare sì, prego iPhone probabilmente non ci ascolta ricordate quando prendete la parola di aprire il microfono tipico errore che facciamo tutti iPhone devi aprire il microfono va bene va bene, comunque sì resta Pina iPhone forse non sa che che si chiama iPhone infatti quella era la stessa che volevo fare anche io va bene, ciao a tutti buonasera ben ritrovati sono Pina Sardano vicepresidente di Tempi Moderni vivo a Roma anche se insomma siamo collegati su Sabaudia e sono cilentana ciao è entrata adesso Elio Zappone non so se è con noi è con noi ma non è con noi e non so se mi sono dimenticato ho dimenticato qualcuno qualcuna perché la chat poi si muove spesso quindi sono andato non so Gurpreet se adesso ha ripristinato il quadro sempre ciao sono Gurpreet sono mediatore di Caritas Latina abito a Latina dieci anni che sto in Italia e da che paese vieni? sono dall'India sono indiano ok benissimo ok penso che ci siamo presentati tutti tu ti sei presentato Rocco, Andrea Cecilia infatti volevo arrivare a voi allora quindi andrei con Andrea prego Andrea ciao sono Andrea lavoro anche io al Cespi come ricercatore sono veneto ed è da vent'anni che sono venuto ad abitare a Roma Rocco prego ciao sono Rocco ricercatore del Cespi sono di Foggia e da dieci anni sono qui a Roma Dario tu ti sei presentato però va bene avete visto l'unica cosa che non ho detto è che sono nato a Milano e da quando avevo sei anni sono nato a Roma ma da ormai quasi trent'anni mi sono trasferito a Cerveteri che è patria etrusca noto che praticamente nessuno è nato in un posto per rimanerci anche chi è di Latina si è dato subito da fare per andare a Roma e chi è di Roma per andare a Latina quindi siamo in un bel una bella famiglia di gente in movimento come sarebbe anche se prendessimo a caso delle persone per strada ormai è la nostra forma mentis e forma vivendi Cecilia prego Cecilia sì Cecilia che invece è di Terracina lì c'è rimasta per sempre non so se mi aveva detto che si doveva assentare per qualche minuto però ecco mi metto in orizzontale se mi si vede meglio ciao a tutti ben trovati sono molto contenta dell'avvio di questo corso di formazione io sono in allegra compagnia delle mie figlie quindi disattiverò prestissimo l'audio faccio parte anch'io del progetto GetUp vivo a Terracina però sono della provincia di Monza e Brianza quindi arrivo dalla Lombardia i miei genitori invece sono pugliesi quindi sì insomma un giro migratorio anche all'interno della mia famiglia buon incontro e buon corso a tutti scusa cara Cecilia semplicemente perché io sono barese vivo seregno quindi tu sai dove e quindi abbiamo il comune e avevo un compagno di classe al liceo che era proprio si chiamava Calò però origini salentine non barese bene Gianni lo diamo per presentato allora sì origini salentine anch'io perché ho dalla parte salentina da parte barese vivo a Milano da tanti anni e ho vissuto anche un po' a Roma quindi ho fatto un po' di tutto nessuno ecco nessuno come hai visto neanche Cecilia della sua terra quindi fondamentalmente ha le origini in un'altra parte quindi ci siamo tutti quindi nessuno di noi nessuno se ci dicessero tornatene a casa tua nessuno saprebbe esattamente dove deve andare no ognuno ha la sua casa ma insomma ne abbiamo passate tante bene a questo punto io credo che sia tempo di aprire gruppi di lavoro e direi è Elio forse che si vuole presentare ah eccomi scusate un po' in ritardo io sono Elio Zappone e sono un avvocato immigrazionista e gestisco uno sportello legale qui a Terracina soprattutto per migranti ma anche insomma in generale per persone che vivono situazioni di marginalità sociale con difficoltà insomma di vario genere e collaboro anche con la Caritas di Latina con la quale insomma gestisco uno sportello legale anche lì insomma sulla falsariga di quello di Terracina dedicato ai migranti a persone che hanno difficoltà insomma di vario genere e collaboro con l'avvocato di Arcangelis Francesco Paolo di Arcangelis benissimo ecco grazie a questo punto non so se vuoi ripetere un attimo le regole di questi gruppi di lavoro no no devo darle ancora le regole le regole sono le seguenti allora adesso ci divideremo in stanze Zoom ci permette di dividerci in gruppi ognuno dei quali funziona come un piccolo Zoom di questo è maestro Rocco che Rocco Pezzillo che adesso ci smisterà direi per lo smistamento di utilizzare l'ordine che ha seguito Mattia per dare la parola e l'ordine sarà a causa casuale casuale va bene quindi lo gestite tu e Mattia funzionerà così ogni gruppo in ogni gruppo ci sarà una persona del progetto ci saranno Rocco Mattia Andrea e il sottoscritto e si chiederà ai partecipanti ciascun partecipante di illustrare i tre aspetti fondamentali sintetizzati in pochissime parole delle per ciascuna delle tre dimensioni chiave individuate dal dal progetto individuate in questo corso e che sono la dimensione sociale la dimensione ambientale e la dimensione economica dei problemi legati allo sviluppo sostenibile e all'integrazione quindi in questi diversi ambiti quali sono per ciascuno di noi i tre problemi fondamentali principali che ci separano da un appieno sviluppo sostenibile e da una piena integrazione e inclusione sociale poi questi una volta che ognuno avrà dato all'interno sviluppo i suoi tre punti cercheremo di tirar fuori per ogni gruppo un solo concetto chiave per ciascuna delle dimensioni quindi ognuno ne butta dentro tre le discutiamo tutte all'interno del gruppo e alla fine emergerà speriamo un problema chiave per ciascuna delle tre dimensioni questo lavoro di sintesi per ragioni di tempo e non certo di prevaricazione lo porteremo avanti noi capigruppo diciamo Rocco io non riesco a entrare e attendo scusa un secondo Rocco poi vediamo così concludo questo poi rientriamo appunto in plenaria tiriamo fuori i problemi che sono immersi in ciascun gruppo e poi ascolteremo da Rocco e Mattia quali risposte invece si sono avute nello sviluppo della nel corso della ricerca che loro hanno svolto e che avevo presentato inizialmente rivolgendosi fondamentalmente a immigrati che lavorano nel territorio dell'agropontino e giovani studenti ovviamente tutto questo poi in relazione con le associazioni che sul territorio operano ecco questa è la dinamica vorremmo fare dieci minuti di lavoro nel gruppo e dieci quindici minuti nella presentazione in plenaria dove potranno anche venire delle osservazioni per poi appunto dare la parola ai nostri due ricercatori Rocco si è risolto il problema no perché come organizzatore non mi fa entrare nelle stanze cioè riesco ad entrare nelle stanze ma non riesco ad essere non so se forse qualcuno non è chiaro non riesce ad aprire le stanze no io io ho aprito le stanze ma non riesco ad assegnare la mia presenza in una stanza quindi io direi che di imperio chiediamo a Pina di poter fare la capogruppo nella sua stanza al posto di Rocco la cosa è molto semplice cioè alla fine bisogna ti avevamo avvisata però va bene la cosa è molto semplice come diceva come diceva Dario cioè dobbiamo uscire dalle stanze con tre problemi uno per il lato economico uno per il lato sociale e uno per il lato ambientale che tutti quanti consideriamo rilevanti nel caso dell'agropontino ovviamente quindi una prima discussione tutti quanti insieme e poi si selezionano questi tre problemi principali dell'agropontino per economia società e ambiente ok grazie e allora diamoci il tempo rientriamo dunque se tutto va bene diciamo entriamo entro le diciamo che per le sette e un quarto sette e venti rientriamo in plenaria sono le sette e cinque ora che si fanno i gruppi va bene va bene allora Rocco facci sognare facci entrare Ea com'è andata ma andata bene nel senso che i partecipanti hanno indicato diverse questioni per tutte e tre le dimensioni io direi che forse la percezione condivisa più di fondo è una mancanza di programmazione e stabilità dei servizi sociali ambientali un senso di precarietà e di provvisorietà che si porta avanti da anni e che ha provocato delle situazioni di difficile trasformazione in campo ambientale il grande problema dei rifiuti in genere di una trascorratezza ambientale è stato citato anche il problema degli incenti boschivi però io direi che la questione dei rifiuti forse è proprio di questo senso di sporco di sporcizia di inquinamento è abbastanza diffuso a livello sociale sono diverse le questioni da un lato in alcuni territori di più la mancanza di servizi sociali in particolare per l'integrazione o dall'altro la presenza di servizi sociali è però una mancanza di informazione e possibilità quindi di accesso a questi servizi sociali e poi alcune mancanze specifiche come l'assenza di mediatori culturali la non presenza di una consulta per le comunità straniere problemi di accesso quindi alla sanità per esempio e infine dal punto di vista invece dell'economia direi due questioni di fondo quella di una disoccupazione in crescita e dall'altra anche di una precarietà lavorativa e di salari bassi io mi sono segnate queste come le principali benissimo grazie Andrea e Mattia sì la nostra discussione si è incentrata soprattutto sulla questione lavorativa e lo sfruttamento lavorativo soprattutto nel settore agricolo in realtà i tre temi i tre diciamo sì temi che sono usciti fuori sono tutti collegati insomma a questo nucleo centrale che è appunto il lavoro in agricoltura naturalmente sotto il punto di vista parto dall'economia che probabilmente è il più diretto e sì il più esplicito naturalmente si è parlato di sfruttamento lavorativo e quindi non si poteva non parlare del appunto sia delle condizioni di lavoro e dei salari che poi i lavoratori bacianti in agricoltura percepiscono rispetto agli orari di lavoro che fanno naturalmente il territorio è tristemente famoso per il fenomeno del caporalato e quindi è stato uno dei temi e la cosa interessante è come invece è stato collegato questo macro tema agli altri due e che è quello appunto sulla società e che molti hanno detto in realtà che il problema principale è il fatto dell'integrazione dei migranti all'interno del territorio integrazione nel senso innanzitutto di appunto conoscere il territorio ma conoscere soprattutto il territorio sotto il punto di vista sia dei servizi naturalmente e soprattutto poi in termini di diritti dei lavoratori cioè loro quello che dicevano è una cattiva integrazione vuol dire anche non comprendere e capire quali sono i diritti e i doveri dei lavoratori all'interno in quel caso specifico del settore agricolo invece sull'ambiente e qui ancora più curioso invece era il tema strettamente legato al lavoro agricolo e l'utilizzo dei fitofarmaci ad esempio e concimi all'interno appunto di questo settore che sono dannosi sia per i lavoratori naturalmente ma sia per l'ambiente in generale naturalmente parlato di scottamento lavorativo molti hanno sottolineato il fatto che in molti casi non vengono dati dispositivi di protezione ai lavoratori stessi e naturalmente avendo ripercussioni poi sulla salute che a loro volta poi si si ripercuotono nell'utilizzo diciamo così poi dei servizi del territorio come quello ad esempio sanitario che appunto non essendoci poi l'integrazione nella conoscenza del territorio molto spesso si arriva nei posti già con aggravamento dal punto di vista della salute mi taccio ottimo grazie Pina eccomi cercherò di non essere ripetitiva su alcuni punti già trattati e soprattutto oltre alle problematiche noi siamo anche soffermati su le opportunità che si potrebbero sviluppare non so se questo è stato un mio avanzamento di lavoro siete portati avanti con il lavoro sì vabbè poi purtroppo essendo entrata così in corsa allora sicuramente i tre temi anche qui nel nostro gruppo si intrecciano come in un grande mosaico partendo dal lato economico dove appunto si è parlato del problema del decreto Salvini e come quindi appunto tutta la questione del lavoro nero l'emersione del lavoro nero quindi sviluppare nuove politiche territoriali che aiutino i migranti a trovare un lavoro rispettoso e nello stesso tempo però ecco qui entra anche il sociale cioè la necessità della formazione della formazione linguistica e qui è emersa una bella discussione perché appunto le due ragazze che hanno fatto parte del mio gruppo hanno detto noi abbiamo studiato l'italiano ma l'italiano si tende a studiare la mattina noi abbiamo famiglia e quindi la mattina non possiamo per questioni organizzative frequentare il corso quindi sarebbe importante riparlare della questione della formazione in orari più consoni ai migranti stessi e quindi non agli orari diciamo tipici odierni appunto di educazione interessante l'azione ambientale cioè l'utilizzo a necessità della viabilità cioè la sostenibilità della viabilità e la necessità di avere più spazi verdi dove appunto sappiamo anche che sono molto utilizzati dalle comunità migranti e qui anche sicuramente una cosa molto interessante è stata la proposta di trovare dei momenti di convivialità dove poter parlare l'italiano quindi dove i migranti possano parlare l'italiano che molto spesso viene parlato solo nei luoghi di lavoro e quindi anche il loro grado di italiano si ferma a quello stato quindi dice troviamo un momento di convivialità anche in un luogo fisico dove noi migranti possiamo dialogare con altri italiani e magari anche qui condividere le culture sia quelle dei migranti quindi della provenienza dei migranti che quella italiana poi la necessità del riciclo del riutilizzo è importante socializzare anche questo e sicuramente per quanto riguarda proposte Sergio ci diceva che esistono dei bandi a cui i migranti possono partecipare che però sono poco conosciuti quindi anche diffondere queste possibilità qua esistono a livello elettorale e regionale credo di aver detto tutto se non l'ho fatto mi scuseranno i miei bene grazie allora nel nostro gruppo i temi sono stati trattati come praticamente anche in tutti gli altri con una forte integrazione fra i diversi piani sociale economico ambientale ma in primo luogo va bene c'è comunque un problema di fondo abbastanza di lunga con radici insomma abbastanza diffuse anche nel tempo che è quello il tema dei pregiudizi e quindi settori sociali abbastanza repulsivi rispetto rispetto ai migranti ma al di là di questo si è sottolineato la difficoltà dei servizi pubblici di rendersi di essere inclusivi da una parte i migranti vengono trattati separatamente per quanto riguarda i loro problemi rispetto alla popolazione in generale ma dall'altra parte e questo non dovrebbe essere perché dovrebbero essere comunque considerati alla stregua del resto della popolazione nelle possibilità di accesso e anche di utilizzo dei servizi e dall'altra sembra mancare una capacità di dialogo dei servizi pubblici verso verso gli stranieri e quindi gli stranieri da una parte si trovano con dei percorsi ad hoc dall'altra parte questi percorsi in realtà diventano separatezza e non permettono loro comunque di accedere in modo efficace ai servizi universali per così dire dove peraltro appunto gli operatori non sono preparati questo poi diventa particolarmente pesante quando e come nel contesto pontino e della provincia di Latina molti di questi servizi sono carenti poco affidabili con modalità di erogazione di bassa qualità e poco costanti e affidabili nel tempo per quanto riguarda il lavoro si conferma il tema dello sfruttamento del lavoro nero che avete indicato con una sottolineatura del fatto che condizioni di lavoro soprattutto nei campi con ritmi molto forti si parla di entrata tra diciamo l'insieme del ciclo di lavoro spostamento eccetera porta i lavoratori immigrati a stare in giro per undici ore questo non gli permette di poi accedere a servizi legali a tutto ciò di cui avrebbero bisogno e peraltro il modo in cui lavorano lavoro sottopagato dequalificato iper ripetitivo e senza alcun tipo di responsabilità fa sì che anche il loro apprendimento del linguaggio in questo contesto sia bassissimo sia assolutamente elementare e la non padronanza del linguaggio a livelli appena sufficienti è a sua volta una causa della difficoltà di integrazione una volta usciti dall'attività di lavoro mancano poi servizi di supporto orientamento alla imprenditorialità ma questo si è segnalato non è tanto per gli stranieri in quanto tali ma è una mancanza generale che sconta il territorio per quanto riguarda l'ambiente ci si è concentrati sulla introduzione di modalità di separazione raccolta differenziata dei rifiuti che secondo alcuni segna comunque marca un passo avanti rispetto al passato è anche piuttosto qualificante per il territorio dall'altro canto però si segnala che a volte questi servizi sono prestati in modo un po' approssimativo e poi quindi in realtà il modo in cui il cattivo modo in cui viene fatta la raccolta non invita i cittadini a proseguire in comportamenti virtuosi in questo ambito e questo si diventa un problema particolarmente sentito e particolarmente visibile per quanto riguarda molti molti giovani stranieri ecco questo sembrano essere sostanzialmente l'intreccio di problemi che sono emersi anch'io mi scuso per eventuali mancanze ricordo che dopo gli interventi dei nostri relatori ci sarà comunque spazio per un dibattito in cui ognuno potrà nuovamente riprendere e approfondire questi temi bene a questo punto io senza togliere altro tempo darò la parola a Mattia e Rocco che ci presenteranno i risultati della ricerca svolta dal Cespi sul territorio pontino prego sì e allora ciao di nuovo e allora queste attività che oggi stiamo facendo è una delle azioni previste dal progetto GetUp che appunto è stato realizzato da promosso dall'organizzazione Doquita insieme appunto a Noi del Cespi Tempi Moderni il GUS progetto diritti articolo 24 e la Caritas insomma questa ricerca che oggi andremo a presentare è un po' il risultato di tutte le attività che abbiamo svolto attività che si sono concentrate maggiormente all'interno delle scuole del territorio dell'agropontino abbiamo preso abbiamo partecipato a una serie di incontri e all'interno di dieci scuole diverse di cinque città del territorio Terracina Sabaudia Fondi Formia e Terracina nel quale abbiamo cercato di un po' di capire dagli studenti sia la loro conoscenza in termini appunto di sviluppo sostenibile il tema che oggi stiamo anche affrontando e anche poi però rispetto al territorio questo sviluppo sostenibile che cade un po' dall'alto dalle Nazioni Unite addirittura e poi insomma veniamo qui che dal globo lo riportiamo all'interno di un territorio molto piccolo rispetto appunto alla dimensione della terra del territorio pontino e questa è stata un po' la sfida di questa ricerca lo sviluppo sostenibile naturalmente è direttamente e indirettamente legato poi al tema cardine della ricerca stessa è quello della migrazione questi due temi vanno di fatto di pari passo e tutti gli obiettivi dello sviluppo sostenibile seppur diversi gli uni dagli altri già come abbiamo visto in questa nostra presentazione sono molto concatenati dalla salute all'istruzione all'integrazione alle disuguaglianze al lavoro dignitoso alle città sostenibili qualcuno diceva appunto non lavoro la domenica perché non ho il pullman beh questo ecco è al di là poi del lavoro che quale lavoro uno va a compiere di domenica e qui ci si dovrebbe interrogare però ad esempio vediamo che al di là del lavoro uno non si potrebbe muovere all'interno del territorio perché la domenica non ci sono dei mezzi pubblici e questo rigate anche all'interno appunto di tutta una struttura che lo sviluppo sostenibile in parte direttamente affronta io vorrei soltanto mostrarvi due o tre slide ma giusto per farvi un po' tener conto del nostro lavoro e allora abbiamo non so se lo vedete già se vedete la slide però voglio mostrarvi questa che è un po' come Dario non si vede? vuoi metterla in formato presentazione? si si ok ok voglio mostrarvi questa immagine che è abbastanza simpatica e molto famosa nei social network è un meme e appunto vediamo questo qui con due forme all'interno di appunto due forme una triangolare a piramide e un'altra orizzontale insomma la prima immagine è quella di gerarchizzare un po' gli obiettivi dello sviluppo sostenibile quale uno è più importante dell'altro e di fatto che l'immagine dice lo rifiuta di fatto perché non c'è un punto dello sviluppo sostenibile che sia più importante di un altro più che altro invece nella seconda parte dell'immagine c'è quella di appunto in maniera orizzontale dove tutti gli obiettivi di fatto sono concatenati lo abbiamo visto appunto prima nel mio caso ad esempio quando si parlava di sfruttamento lavorativo dove appunto l'aspetto sanitario si concatenava con quello sociale con quello dell'integrazione con quello economico e quindi diciamo abbiamo uno strumento che appunto sono gli obiettivi che ci danno poi una linea da poter seguire per cercare di migliorare un po' la nostra vita all'interno del territorio in cui viviamo e naturalmente la ricerca si è focalizzata molto sull'inclusione sociale dei migranti nel territorio pontino che a nostro avviso è secondo insomma la ricerca che abbiamo portato avanti si basa soprattutto su tre pilastri fondamentali che appunto è l'accesso ai servizi del territorio da parte dei migranti e quindi conoscere bene il territorio in cui si vive e capire quali sono poi i diritti e i servizi a cui ogni individuo della società ha diritto ad accedere l'inclusione lavorativa naturalmente questo tema sappiamo benissimo che il territorio di Latina è appunto come dicevo prima è tristemente famoso per il fenomeno del caporalato questo tema qui all'interno della ricerca abbiamo deciso un po' di non affrontarlo fino in fondo innanzitutto il motivo fondamentale è che ci sono moltissimi studi che hanno molto insomma approfonditi soprattutto qui abbiamo tempi moderni e chi meglio di loro hanno portato avanti questo filone qui di ricerca invece quello in cui ci siamo focalizzati noi visto che anche le attività sono state le protagoniste all'interno degli studi scolastici appunto è quello dell'inclusione degli studenti con background migratorio all'interno delle scuole naturalmente questo aspetto qui è stato molto interessante innanzitutto perché ci ha fatto un po' capire quali erano le problematiche delle scuole del territorio ma anche problematiche comuni un po' a tutto il territorio nazionale che la scuola appunto deve e ha quando si parla di inclusione degli studenti stranieri o degli studenti che hanno un background migratorio e da una prima abbiamo insomma portato avanti questa nostra questo nostro obiettivo appunto quello di analizzare il ruolo degli studenti con background migratorio attraverso una prima suddivisione territoriale abbiamo visto che in tutta la provincia di Latina nonostante ci sia una grande presenza di comunità migranti le più numerose dai nostri dati sono quella rumena e quella indiana ma comunque sono presenti diverse comunità numerose storiche come ad esempio la tunisina o la marocchina e quello che ci ha fatto però inquadrare in una prima battuta il territorio è la suddivisione territoriale l'abbiamo suddivisa in tre parti fondamentali la prima è quella legata alle grandi città Latina Formia Aprilia in parte anche se non faceva parte del progetto ma l'abbiamo voluta un po' includere per avere dei dati a disposizione le città di Sabaudia e di Terracina che le abbiamo rinchiusa all'interno invece di una seconda categorizzazione e abbiamo utilizzato un po' anche il linguaggio che Marco Mizzolo che tutti insomma conoscete aveva utilizzato nel suo studio appunto definirla zona transurbana che sono appunto quelle zone anche se non è il caso di Terracina e Sabaudia ma sono quelle zone che appunto sono caratterizzate da insediamenti più o meno formali di grandi comunità dei migranti soprattutto relativa a quella indiana e una terza scusami Mattia scusami devo avvisarti che hai circa cinque minuti perfetto appunto e una terza territorializzazione è quella invece dei piccoli comuni che abbiamo preso in esempio due comuni principali dei Montilepini che sono i comuni di Sezze e di Priverno questa prima territorializzazione ci ha fatto capire un po' di cose innanzitutto che nelle grandi città si tende a un po' a indirizzare gli studenti verso ad esempio scuole professionali e istituti tecnici questo perché innanzitutto perché si tende anche le famiglie stesse vogliono in un certo modo indirizzare i propri figli verso questo tipo di scuole per avere un risvolto professionale diretto dopo appunto il percorso scolastico superiore mentre invece nelle zone molto più piccole come ad esempio Sezze e Priverno invece il numero se andiamo a vedere i numeri degli studenti stranieri all'interno per esempio dei licei è molto maggiore questo ci dice anche che probabilmente nelle zone piccole dei piccoli paesi di montagna come ad esempio possono essere quelli relativa alla zona dei Montirepini c'è una coesione sociale molto più ampia dove i migranti riescono di fatto ad integrarsi molto maggiormente rispetto alle comunità e alle realtà delle grandi città oppure come abbiamo visto delle zone transurbane io vorrei lasciare brevissimamente la parola al mio collega Rocco che ci illustrerà velocissimamente due dati e poi le soluzioni che secondo noi secondo gli studenti insegnanti sono adatte nel territorio Rocco se riesci a presentare la tua parte in tre minuti vinci entri nel Guinness dei primati e completiamo la giornata con i ritmi previsti sì taglierò la prima parte dove mi ero concentrato su una fotografia della presenza degli studenti di Coppe Grande Migratorio nella scuola della provincia e passo direttamente alle criticità emerse del sistema scolastico durante le nostre attività di ricerca che principalmente sono l'assenza di un servizio di mediazione linguistica culturale dovuto principalmente a fattore di risorse umane e economiche da parte degli istituti scolastici il mediatore culturale è una figura fondamentale anche nel coinvolgimento delle famiglie degli studenti di Coppe Grande Migratorio e al proposito per colmare questo ostacolo linguistico durante un focus group con gli studenti di una scuola di fondi c'è stato dato un suggerimento molto interessante che è quello di predisporre degli strumenti da parte della scuola multilinguistici come per esempio il registro elettronico multilingue proprio per dare la possibilità ai ai genitori di seguire il percorso scolastico dei propri figli un'altra criticità emersa è quella dei corsi di potenziamento linguistico dell'italiano e le due che spesso non sono affidati a docenti con una formazione specifica ma questo ruolo viene ricoperto da insegnanti di altre discipline già presenti nell'organico dell'istituto scolastico bene o male queste sono le tre grandi criticità emerse oltre oltre a quello che il la figura del responsabile dell'inclusione delle scuole spesso tende a sottovalutare i bisogni degli studenti con ben grado migratorio e a concentrare gli interventi con altri tipi di su altri tipi di bisogni educativi mentre l'indagine che abbiamo svolto nelle dieci scuole coinvolte dal progetto hanno cercato di far emergere le percezioni degli studenti con il proprio territorio con la scuola e con i monomigratori in generale riporterò per mancanza di tempo soltanto alcuni dati un po' più particolarmente significativi quando abbiamo chiesto agli studenti qual è l'ostacolo principale per un'inclusione scolastica degli studenti che vendranno migratorio la risposta è stata la risposta principale è stata quella che tendono ad isolarsi però è interessante riflettere su questa questione perché spesso non sono cioè perché non sono i ragazzi che vendranno migratorio ad isolarsi ma è la scuola stessa che non che non mette in pratica è la scuola stessa che non riesce ad avere gli strumenti adeguati per una inclusione di questi studenti questa risposta è significativa nel presente grafico che mostro quando abbiamo chiesto invece secondo te gli studenti italiani tendono ad isolare o a mostrare diffidenza nei confronti degli studenti la risposta nell'ottanta per cento è stata è stata sì quindi siamo noi sono gli studenti in generale che non è la scuola che non mette in condizioni che non mette in condizioni per un adeguato processo di inclusione Salve Rocco siamo in chiusura un altro aspetto preoccupante possiamo dire che è emerso dall'indagine che abbiamo fatto con gli studenti è quello che il sessanta per cento degli studenti dell'agropontino vuole vedere il proprio futuro fuori dal proprio territorio soltanto un nove per cento vuole rimanere nell'agropontino questa questa informazione è abbastanza significativa i ragazzi hanno lamentato possibilità di esperienze lavorative di un ingresso rapido nel mondo del lavoro ed è questa stata la motivazione principale per la loro partenza in conclusione voglio mostrare un manifesto per una scuola sostenibile che abbiamo costruito tramite diversi confronti che abbiamo avuto con gli studenti con i rappresentanti della società civile e con gli insegnanti i quali punti emersi sono riguardano in parte la scuola in parte il territorio per quanto riguarda i punti che riguardano la scuola è il bisogno di favorire l'apprendimento della lingua non tramite una didattica tramite la didattica tradizionale ma tramite attività che promuovono la socializzazione tra ragazzi quindi tramite laboratori teatrali attività sportive e progetti che comunque consentono momenti relazionali poi è emersa anche la necessità della figura del tutor la figura del tutor è una figura che è in grado di accompagnare l'inserimento a scuola degli studenti nearrivati e può essere o uno studente stesso della scuola di seconda generazione del paese dello stesso paese di origine o un'alternativa anche a una figura esterna con questo mi taccio per mancanza di tempo e passo la parola al Dario grazie Rocco questa presentazione come i materiali che verranno presentati in tutti i moduli sono ovviamente messi a disposizione dei partecipanti che li riceveranno nelle forme che poi verranno comunicate dagli organizzatori l'ultima cosa chiediamo anche a voi partecipanti di aiutarci ad arricchire questo manifesto alla fine con le vostre proposte riusciremo ad arricchirlo vai Dario benissimo allora a questo punto abbiamo diamo la parola al terzo relatore a Gianni Bottalico che ho già presentato già presidente delle ACLI che sono una grande associazione di promozione sociale anzi sono la rete le associazioni cristiane dei lavoratori italiani attualmente è responsabile delle relazioni con le regioni e con i comuni dell'associazione italiana per lo sviluppo sostenibile ASVIS e ci permetterà dal suo punto di vista dalla sua attività di lavoro ed impegno sociale di avere una visione più ampia su scala ultraprovinciale cioè al di là della provincia di Latina dell'Agro Pontino una dimensione regionale e nazionale dei problemi di cui ci stiamo occupando il tempo che ci siamo che abbiamo concordato è di circa un quarto d'ora in modo tale che negli ultimi minuti possiamo dare spazio a interventi e considerazioni dei partecipanti prego grazie Dario grazie a voi Andrea se ci sei io sapevo che partecipando a questo incontro sarei stato qui ad ascoltare e imparare non sicuramente a dire delle cose perché ho ascoltato con molto interesse questo questo sforzo questa lettura questo prendere coscienza dei problemi perché io non ho presentato Sly per la questione di tempo e vi rimando a tutte le amiche e gli amici collegati al nostro portale asvis.it dove potete trovare tante informazioni e c'è anche le cose alcuni passaggi che farò in questo momento anche rispetto al rapporto cioè alla fotografia che facciamo noi tutti gli anni rispetto all'Italia rispetto alle regioni come abbiamo fatto ultimamente le trovate anche nella lingua inglese eventualmente quindi questo magari per qualcuno può essere più comodo dicevo la rappresentazione cioè la fotografia che ci avete oggi presentato è la fotografia assolutamente di un paese non sostenibile perché le cose che abbiamo ascoltato i problemi le difficoltà le fatiche di carattere economico di carattere sociale e di carattere ambientale sono la fotografia di questo paese dell'Italia la fotografia di un paese che nonostante abbia fatto una scelta forte rispetto all'agenda 2030 e quindi ha sposato ha accettato ha condiviso i 17 gol si è impegnata a raggiungere e ad adempiere l'aggiunimento di quegli obiettivi ebbene questo paese l'Italia non è in questo momento sulla strada della sostenibilità ossia significa che questo paese l'Italia per gran parte dei suoi gol nel 2030 non li avrà raggiunti non li avrà raggiunti perché le sfide e sono quelle che voi avete elencato oggi sono sfide assolutamente in questo momento di grande affanno e di grande difficoltà tenete conto che purtroppo questo avviene non soltanto in Italia è avvenuto in Europa avviene nel mondo sia anche la famosa crisi pandemica la crisi che tutti i paesi di tutto il pianeta sta soffrendo rispetto al problema Covid ecco questa 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 situazione ha creato e sta creando problemi enormi in tutto il pianeta li crea anche l'Europa e li sta creando anche l'Italia e purtroppo vedete una delle ricette una comunque delle chiavi dell'agenda 2030 dice guardate che noi dobbiamo costruire un mondo che sia pronto sempre a questa eventualità e abbia gli anticorpi abbia il sistema abbia il modo di attutire queste situazioni di difficoltà voi sentirete parlare spesso del termine resilienza l'ho detto in questa quindi intanto è vero che anche voi sentite leggetti sui giornali piano nazionale di riforma e di resilienza cioè il fatto che comunque una delle grandi elezioni che è il 2030 al di là del raggiungimento degli obiettivi è quello che ci dice che dobbiamo rendere questo paese resiliente che significa che significa anche per il territorio come il vostro quello dove vivete cercare assolutamente di dare non solo risposta alle grandi fatiche e difficoltà che avete elencato ma cercare di fare in modo che assolutamente si metta insieme un sistema che sia in grado poi di rispondere e di accompagnare questi processi ho detto prima purtroppo il paese l'Italia non è su un sentiero di sostenibilità e non lo è e non lo è neanche la regione Lazio per parlare di una regione dove voi vivete di un territorio dove voi vivete torno a dire l'elenco delle questioni che avete posto la mancanza di servizi assolutamente adeguati e strutturati il tema dell'accesso alla sanità il tema economico del lavoro mal pagato il tema delle disuguaglianze il tema della disoccupazione sono purtroppo tutte emergenze assolutamente che sono molto forti e guardate che il tema vero anche in questo paese purtroppo che questo tema delle disuguaglianze questi temi questi elenchi di cose che non funzionano non sono non sono uguali neanche in tutta Italia questo è l'altro problema cioè la fotografia che noi abbiamo del paese non c'è più un nord un centro e un sud anche nel don ci sono sacche fortemente con grandi problemi come se ne sul centro e come se ne sul sud quindi purtroppo siamo di fronte a una situazione estremamente estremamente complessa che cosa si può fare che cosa si deve fare rispetto a una situazione di questo genere noi come alleanza per il risultato sostenibile cerchiamo di mettere a disposizione degli strumenti di lettura di quello che avviene ho detto prima i rapporti che adesso facciamo anche a livello territoriale stiamo cercando Andrea neanche Andrea quando dico Andrea Andrea Stocchiero così è lì nella penombra è lì che ci sta ascoltando con Andrea abbiamo stiamo lavorando appunto su questo è importante in questo momento costruire delle reti sul territorio rispetto a questo lo studio che è stato fatto a parte vostra questa elenco ma io ho detto prima consapevolezza dei problemi è un fattore già importante abbiamo bisogno in questo momento e noi come ASVIS stiamo cercando di accompagnare un po' i territori proprio perché queste situazioni queste gravi queste gravi problematiche oggi presenti sul territorio e all'interno dei territori anche in maniera diversificata hanno bisogno di alcune risposte e hanno bisogno di essere accompagnati ogni regione deve costruire deve scrivere la propria strategia di sviluppo sostenibile dire strategia di sviluppo sostenibile per una regione vuol dire dare risposta a quei problemi che voi avete poc'anzi denunciato dare soluzioni a quei problemi che poc'anzi avete denunciato dare come dire anche indicare delle strade indicare delle politiche che servono a risolvere i problemi che voi avete elencato tutte le regioni ve lo dico perché è importante secondo me questo tutte le regioni devono assolutamente scrivere le loro strategie regionali che significa guardare ai problemi del suo territorio analizzare quali sono i problemi e dare e dichiarare come quando e perché darà risposte a quei problemi questo è un passaggio importante che vorrei che non ci si dimenticasse perché c'è come dire da una parte c'è una chiarezza di responsabilità le istituzioni che devono dire come si risponde dei problemi ma anche ma anche la responsabilità nostra insieme noi noi che siamo oggi collegati nel fatto che abitiamo i territori ne viviamo i loro problemi e dobbiamo prendere consapevolezza che anche noi abbiamo dei doveri oltre che diritti rispetto a questo e che dobbiamo accompagnare il più possibile questi processi dichiarando denunciando anche le cose che non fanno confrontandosi con le istituzioni con le istituzioni locali con i territori proprio per dare per comunque accompagnare costruire risposte intorno a questo quindi come dire io sono molto positivo rispetto a questo rispetto a quanto potessi esserlo qualche tempo fa perché come dire abbiamo oggi tutti quanti degli strumenti da mettere in campo dobbiamo solamente assumerli tutti quanti ecco perché è importante ho sentito che ci sono anche rappresentanti di associazioni mi rivolgo particolarmente anche a loro a tutte le organizzazioni sul territorio abbiamo bisogno di costruire reti intorno a questo noi stiamo cercando di promuovere sui territori come dire delle reti che prendono cura si prendono a cuore il tema della sostenibilità e accompagnano questo processo della sostenibilità stiamo cercando di promuovere sul territorio reti di associazioni di soggetti che dove ciascuno per le proprie peculiarità per le proprie missioni per le proprie agire ecco si mettono insieme per cercare di dare una risposta da una parte ma anche assumere consapevolezza rispetto a questo è una grande occasione che abbiamo abbiamo una grande occasione politica di far valere le nostre idee di far valere i nostri progetti certo lo dobbiamo fare avendo cura e avendo anche consapevolezza che non siamo più a qualche anno fa il tema del lavoro non può più essere visto soltanto in una certa maniera il lavoro oggi ha una dimensione che avete detto voi economica deve essere impagato deve essere assolutamente remunerato deve esserci il lavoro per tutti è un lavoro giusto c'è una dimensione sociale e c'è anche la dimensione ambientale non possiamo costruire realtà economiche realtà produttive sui territori che se danno lavoro e pagano anche bene gli operai o i dipendenti inquinano l'ambiente quello non è sostenibilità non è sostenibilità quindi abbiamo bisogno di accompagnare questi temi questi problemi in maniera come la gente ci insegna e quindi anche in nostro agire parlo io dalle atli io il tema del lavoro non posso più guardarlo con gli occhi di ieri dovevo guardarlo con questa consapevolezza che ha un impatto ambientale che deve avere un impatto economico e l'ambiente sociale che devono stare insieme le nostre associazioni ciascuno chi lavora in campo economico chi lavora nell'ambito sociale chi lavora nell'ambito ambientale devono cambiare questa loro prospettiva ecco il salto non dobbiamo cambiare le cose che facciamo dobbiamo cambiare la prospettiva nella quale collochiamo le cose che facciamo ecco perché sono importanti le reti perché le reti sono ricchezza le reti sono esperienza le reti sono know-how le reti sono conoscenza le reti sono esperienza quindi mi permetto e chiudo semplicemente perché torno a dire non ho nulla da insegnare o soltanto da apprendere da quello che avete fatto voi però vorrei proprio lasciarvi volevo che ci lasciassimo con questo messaggio di sfida ma anche positiva e torno a dire ricito Andrea perché su questo ci ha creduto ci sta credendo ci sta lavorando moltissimo non a caso credo che abbia messo anche questo incontro proprio per queste ragioni abbiamo bisogno di fare questo di fare questo percorso assolutamente insieme quello di assumere questa questa consapevolezza queste sfide questi temi non non li possiamo affrontare insieme ma con questo nuovo approccio quindi da una parte l'associazione civile i cosetti i corpi intermedi gli stakeholder quelli che si chiamano e dall'altra istituzione dobbiamo incominciare a interloquire noi avendo chiaro la nostra progettualità interloquire con le istituzioni che credo speriamo che abbiano anche la loro progettualità o comunque abbiano le loro scelte chiudo una nota positiva i soldi che stanno arrivando dall'Europa devono servire per fare queste cose se no sono soldi sprecati e anche qui la nostra battaglia insieme come ASMI insieme a tutte le nostre associazioni un modello non bastano soltanto le idee di cosa fare ma bisogna sapere anche il modello di come le facciamo e come governiamo questi processi e quindi i territori saranno importanti il processo dal basso il coinvolgimento i soldi che arriveranno su tutto il vostro territorio devono essere gestiti insieme anche a voi insieme alla vostra conoscenza alla vostra esperienza altrimenti sono soldi che sono sprecati anche questo quindi abbiamo consentitemi una battaglia politica da fare insieme le amiche e gli amici che arrivano da altri paesi non dell'Italia sono con noi e devono essere con noi i protagonisti di questo percorso perché anche qui l'agenda 2030 ha questa ha questa anche questa ambizione assolutamente quello di tenere assolutamente insieme di tenere insieme tutto questo mondo e soprattutto di tenerlo il più unito possibile quindi mi permetto sinceramente di lanciarvi questo messaggio di lavoro comune e anche disponibilità come alleanza sostenibile noi sono nati sui territori delle realtà si sono chiamati in Toscana Toscana 2030 Liguria Liguria 2030 si sono dati ci sono a Pisa è nata Pisa 2030 sta nascendo da Rezzo quindi diciamo che non ci sono dei confini precisi ci sono però come mi pare di capire da quello che mi avete detto dei territori molto omogeni come il vostro che vive alcuni problemi che per esempio potrebbe prendere a cuore questo aspetto quindi penso agli amici e amici della Caritas penso agli amici di Agenda 24 credo non aver detto sbagliato e di altri soggetti che prima si sono presentati e tante altre che secondo me c'è un grande lavoro comune da fare su quel territorio quindi mi lancio questo appello a farlo è una disponibilità totale da parte della finanza del sviluppo sostenibile a darvi una mano per quello che possiamo e sappiamo fare mille grazie Gianni ringraziamo questo intervento che ci porta all'esperienza e la disponibilità dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile come strumento anche per monitorare e promuovere il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 abbiamo circa otto minuti per interventi considerazioni e tutto quello che ritenete opportuno fare dire microfono aperto a voi la parola a me mi ha fatto venire in mente una cosa la difficoltà che io trovo e ho sempre trovato a fare rete in questo territorio non è facile io ho lavorato venticinque anni in contesti per cui poi proprio nella mia cultura fare rete almeno io ho iniziato a lavorare al nord era tutto sulla rete e qui ci sono sempre state delle grosse difficoltà non lo so perché questa è un'altra cosa che mi veniva in mente era è vero che noi abbiamo questo purtroppo ai miei record negativo rispetto a imprese che non si comportano bene che finiscono sui giornali di sfruttamento però non si è mai pensato a valorizzare che non so come fanno da altre parti premiare coinvolgere soprattutto coinvolgere aziende che io conosco e che conoscono anche altri che invece sono gli esempi noi abbiamo anche delle buone aziende nell'applicazione dei contratti per l'agricoltura insomma questo è un aspetto che anche qui si tende sempre quel poco di rete che c'è c'è molto distacco fra imprenditoria da una parte e il sociale fra virgolette dall'altra bene grazie Barbara al Cespi stiamo lavorando parecchio con diversi progetti alla valorizzazione delle buone pratiche che poi è ciò di cui di cui parlavi effettivamente l'indicazione di buone pratiche a volte ottime pratiche può anche essere una indicazione per i consumatori e i consumatori spesso poi da dove le reti funzionano sono parte delle reti quindi e a volte le buone pratiche anche inducono all'emulazione quindi certo chi fa cattive pratiche perché è cattivo dentro diciamo così è cattivo operatore forse forse non si convince ma la presentazione e sviluppo di esempi virtuosi può aiutare anche a rendere sempre più impopolari e isolare invece quelle iniziative che poi macchiano anche l'identità di un territorio benissimo altri altre considerazioni Dario sono Sergio otto minuti sono troppo pochi per sviluppare un argomento io propongo di rimandarlo a una seconda riunione perché noi cioè io ho tanti operatori che vedo qui che stanno insieme con me siamo tutti persone concrete non facciamo studi non facciamo analisi non facciamo grossi pensieri noi siamo attivi sul territorio purtroppo non a 360 gradi perché abbiamo qualche difficoltà per portare avanti i nostri progetti e essere utili in questa realtà che dobbiamo anche analizzare politicamente ben schierata in tutto il territorio per cui abbiamo effettivamente come dice anche Barbara difficoltà di dialogare per cui parlare adesso sarebbe arrivare forse alle nove e mezza quindi mi astengo va bene sappiate che alla prossima ci sono bene Sergio grazie ti sei mica ti sei assenuto tanto hai detto e allora ci hai ricordato e ogni tanto noi ricercatori ci troviamo di fronte a chi ci ricorda con orgoglio giustamente per chi lo fa che ci sono anche le persone del fare sul territorio e non solo quelle dell'osservare e ricercare tuttavia quello che dicevi sul fatto che chi lavora tutti i giorni sul territorio nei campi nello sviluppo spesso non ha o poi un approccio a 360 gradi ecco chi fa ricerca cerca tenta di mettere insieme queste esperienze per poi rilanciarle a tutti con una visione di 360 gradi che si fa attraverso le fette di realtà che ognuno di voi che ognuno di voi tratta e porta Dario posso però perché Sergio ha ragione ma vorrei dire Sergio guarda che la partita che giocheremo nel prossimo non troppo lontano futuro sarà una partita proprio sui tavoli anche su questo sul fatto che comunque anche le risorse economiche verranno messe in campo comunque a tutti i livelli dovranno essere coerenti con questo ecco perché sono importanti questi partiti anche il fatto di fare rete quindi anche interlocuzioni con le istituzioni rispetto a questo è riferito anche a fatto delle risorse che verranno messe in campo come quando e perché ecco vorrei che questo fosse chiaro altrimenti diventa fra qualche anno le risorse economiche messe in pente dalle regioni anche rispetto alle associazioni saranno andate sulla base di quanto saremo pronti noi a recepire a lavorare e a operare coerentemente con questo vorrei che fosse chiaro come l'Europa chiederà a Paese Italia di essere coerente con l'agenda 2030 dovranno essere coerenti anche a cascata le istituzioni nei nostri confronti quindi abbiamo un tema da affrontare e ragione quando ci arriviamo per ora abbiamo un tema da affrontare come associazione perché che non ci rendiamo coerenti rispetto anche noi rispetto a questo altrimenti veniamo tagliati fuori e guardate ve lo dico veniamo tagliati fuori da tanti altri che magari nei nostri mondi non ci sono che si stanno organizzando per dare risposte rispetto a questo in tutto il mondo del privato va bene vengo dopo vengo dopo bene allora siamo arrivati alla chiusura di questo incontro quanto diceva Sergio ha ovviamente ragione in otto minuti non decolla il pensiero insomma non decolla e soprattutto non si articola come è giusto che faccia comunque avete davanti non otto minuti ma quattordici ore di altri incontri in cui si parlerà di protezione dalla discriminazione dallo sfruttamento di comunicazione sul tema delle migrazioni e del lavoro dei cittadini migranti che quello conta molto per creare inclusione come si fa l'inclusione sociale nell'agropontino l'associazionismo nel territorio che è il problema che poneva poi Barbara perché va bene tu puoi fare un'associazione ma poi se le associazioni non si associano fra loro e non fanno rete non si va molto lontano la partecipazione è una valutazione di tutto il percorso formativo senza dimenticare il tema delle rimesse della gestione delle risorse finanziarie quindi tutti i temi trasversali a ciò che ci siamo detti altri temi ancora e spazi per tirar fuori quello che la vostra esperienza concreta sul territorio nel lavoro vi suggerisce e vi induce a condividere con gli altri ci saranno quindi a questo punto io ringrazio tutte e tutti se i miei colleghi o chiunque di voi non ha non intende aggiungere altro chiudiamo qui e nei prossimi giorni sarete messi in condizione di accedere a tutti alla presentazione che oggi è stata molto sintetica della ricerca del CESFI e complessivamente i materiali che verranno utilizzati in questi incontri grazie di nuovo buonasera buona cena buonasera buonasera ciao arrivederci grazie buonasera a tutti grazie ancora grazie ciao ciao